Sapete che la dama con l'ermellino di Leonardo da Vinci in origine era senza ermellino? E che sotto la notte stellata di Van Gogh c'è un altro paesaggio? Pensate a come sarebbero queste famosissime opere se gli autori non avessero avuto ripensamenti. Dipinti iconici e conosciuti in tutto il mondo avrebbero un aspetto completamente diverso. Ma come facciamo a sapere cosa si cela sotto alle pennellate in superficie? Lo vedremo insieme. Scopriremo infatti che grazie a luce infrarossa e raggi X è possibile vedere gli strati nascosti di pittura e che alcuni batteri possono essere utilizzati per pulire le opere. Esploreremo il legame tra arte e scienza, l'importanza del metodo scientifico applicato al restauro, le competenze dei professionisti coinvolti, le tecnologie e gli strumenti utilizzati e capiremo quanto è importante salvaguardare il patrimonio culturale per trasmetterlo alle generazioni future. E c'è di più? Le prime 30 classi che si iscriveranno potranno visitare il Centro Conservazione e Restauro di Venaria osservando dal vivo il lavoro dei restauratori.